E' stata presentata questa mattina a Palazzo di Città la prima giunta targata Giuseppe Lanzara. Il nuovo esecutivo sarà formato da cinque assessori, tre uomini e due donne, ognuno in espressione delle liste che compongono la coalizione di centro-sinistra. Due gli assessori in quota PD, Paola Manzo e Carmine Spina. Uno a testa per le altre liste, Michele Di Muro, vice sindaco in quota Campania Libera, Raffaele Sica, Energie ed Adele Trigiano insieme. Ressono in capo alla sindaco le deleghe al bilancio, risorse umane, avvocatura, ecologia e igiene urbana. Tre invece i consiglieri delegati, Adolfo Citro di Campania Libera, gabinetto del sindaco, rapporti istituzionali ed attuazione del programma. Francesco Fusco del Partito Democratico, tributi grandi opere e società partecipate. E Ghetano Nappo di Energia, sport e politiche giovanili. Un esecutivo che tiene conto delle competenze, che tiene conto anche però del risultato elettorale, visto che poi tutti gli uomini e le donne che fanno parte della Giunta sono consiglieri eletti o comunque candidati nelle liste. Quindi è stato fatto un lavoro che tiene conto delle competenze e delle richieste che io ho sollecitato più volte alle varie liste e ai vari movimenti, però con il massimo coinvolgimento dei referenti, con una condivisione importante e sana con tutti quanti loro. È stata fatta soprattutto in tempi rapidissimi, in tempi record, perché lunedì di questa settimana io mi sono insediato, è stato il mio primo giorno e oggi siamo qui per presentarla. Quindi in soli quattro giorni abbiamo definito il quadro veloce di tutte le deleghe, dei nomi e siamo pronti per dare delle risposte agli interessi, a quello che loro ci chiedono, ai cittadini soprattutto. Lei si è definito il sindaco della felicità. Perché questa definizione? Venerdì scorso io ho terminato la dichiarazione quando è stata fatta la proclamazione qui davanti al Comune chiudendo con una frase che dava a questo termine, alla parola felicità, il senso del nostro impegno politico. Felicità vuol dire quella di metterci a disposizione, di metterci in discussione, di dare il massimo impegno per far sì che le cose cambino davvero nell'interesse dei cittadini e appunto per raggiungere e per dare a loro la possibilità di avere una speranza e di poter essere felici. Come mai ha deciso di tenere per sé la delega al bilancio? Ci sono delle deleghe importanti che ho voluto tenere. Anzitutto quella sul bilancio tiene conto anche di quelle che sono le mie competenze, le mie esperienze sia di studi che lavorative. E soprattutto tengo con me la delega all'ecologia perché è un settore molto delicato, molto particolare. È un settore che in questi anni è stato completamente trascurato, non è stata fatta una programmazione su quale invece c'è un'idea completamente differente rispetto appunto a quello che è stato fatto fino ad oggi. Quale sarà il primo provvedimento che approverà questa giunta? Adesso dobbiamo metterci al lavoro con gli uffici e capire tutte quelle che sono le emergenze. Sicuramente ci sono dei problemi contingenti che riguardano il taglio del verde, la raccolta dei rifiuti, così come la manutenzione delle strade che hanno un impatto immediato e che vanno risolte urgentemente nel più breve tempo possibile.